Oh, oh, è bancato, è bancato! Mi si è bancato l'omino! Che sta succedendo? Da qui non arriva nessuno C'è la scala La rimma, maiala Dai! Perché non... Ma scende giù! Dai! Spara! Spara! Ti fa... Mangia cinghiali? Oh? Non ti vedo più! Codename Cure Bellissimo gioco, bellissimo, bellissimo Già, possiamo vedere Alta risoluzione grafica di questo gioco Allora, dov'è? Dov'è il co... Crea server? Trova server? No, crea server Prova a fare trova Trova server Mamma mia, che casino Allora, te... Qual è la prima che c'hai? Wagen, Hertz, Bomb Escape Usiamo questa, vai Proviamo Oddio, sei te! Oh! Oh! Oddio! Allora, qui c'è scritto fragile Sicché, penso, si possa... Si possa buttare giù in qualche modo Forse con... Con una gomitata Oh, bravo Bravo, mangia cinghiali Mamma mia Maffanculo Allora, qual è lo scopo di sto gioco? Non si sa Si scoprirà man mano che andiamo avanti Uccidere gli zombie Non penso sia comunque Molto carico di morale sto gioco Oh, mi stanno facendo forte Oh, è carica sta arma Tre ore! Tre ore per caricare un'arma Ma ma... Ma... Cioè, a cazzotti li devo prendere A cazzotti! Non carica quest'arma Non ca... Ma guarda te, oh! Cos'è sta roba per terra che ho preso? Oh, che ho uno dietro, uno dietro Non muoiono sti bastardi Ma qua è che c'è da fare? Vieni qui, vieni qui Non so cos'è sta roba Cos... Non si vede una sega! Non si vede nulla! Non c'è nulla, faccio Qui c'è qualcosa, non so... Cos'è sta? Andiamo sopra Mamma C'è che c'è da andare dove c'è... Questa cosa Aspetta, Mindo sei Aspetta Via, 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 via Bomba, bomba, bomba Scappare Madonna, ogni volta che tiri fuori l'arma Ricarica sto stronzo Guarda! E morite Oh, oh! È buggato, è buggato! Mi si è buggato l'omino! Mi si è buggato l'omino! Per un barile per terra! Che è successo ora? Server sta cambiando livello Ma perché? Ma perché? Ma cosa? Io sono parte di un team Iniziamo la partita Tutte le scritte sovrapposte Mamma mia Proviamo Pointman Usa un ingegnere, vai E io Pointman Dai, col coso lì Nel pompa Bella Bella Tec Guarda che meraviglia Allora, che c'è da fare qui? Senti, com'è che l'hai tirata la bomba te? Io le granate Con il coso Con la ruzzolina del mouse Ma deve averle il personaggio Ehi Oh no! Quanti sono? Che si grullo Cioè, carica prima il fucile a pompa Che il mitra Ti rendi com' Senti, ma qui ho una torcia Dove stiamo andando? Ma che lo so? Sono indietro Ma io Io non vedo niente, raga Madonna, è tutto buio Ma come si fa a vedere? Aspetta, lancio una bomba Vediamo se Dove è andata la bomba? Io non vedo niente È tutto nero Non si vede Mangia cinghiali? Oh Non ti vedo più Senti, proviamo ad andare a dritto Laggiù vedo che c'è Che cazzo è? Chi è che spara? Ah, bisogna andare qui Ma te c'hai la torcia Ma nemmeno lo sapevo Ma come? Vieni qui, vieni qui Ritorna lì Non so come mi sei acceso Cosa? Cosa? Oh Madonna, ragazzi Arrivano altri Ehi Ehi I tanchi I tanchi Dio bono Mi sa che sono morto Ecco A posto Cioè non fanno niente Ste gra Ah sì Forse qualcosa sì Ah c'è un giocatore Che si è unito Alla nostra partita E meno male Qualcuno si diverte A giocare a sti giochi Come noi Va bene Torcia Ce l'hai te? No Ce l'ha lui Ce l'ha lui Ok Bravissimo Continua Dove è andato Dove è andato Che cavolo Che ci fa qui il fo Cosa? Che sta suc Che sta succedendo? Che Cosa? Sta tirando le granate lui Lui c'ha le granate Mi sa un po' Cazzo No 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 dietro Ovunque Ma non si vede niente Non si capisce nulla Uh si sale La torcia come si accende Vediamo un pochino se c'ho No Non c'ho Oddio con la Q Con la Q c'hai la torcia Mangia cinghiali Sì Andiamo a raggiungere il nostro amico Dai Ma vai a cagare Oddio Oddio sono tutti qui Allora Per essere Per essere invertebrati Corrono i nostri amici Mi sa che bisogna levarci dalle palle Perché qui ti fanno secco Torna fuori Torna fuori Tira granate Ma cosa? Ecco Come missione fa lì? Non si sa Non si sa Mangia cinghiali Non si sa Da qui non arriva nessuno C'è la scala Maremma Maiala Però Dai Perché non Vai 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 te Vai te Ma scende giù Guarda Non ci va Non ci va Là Mannaggia la miseria Ah c'è la scala Ah c'è uno dietro Ovunque Ovunque No 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 Ah questo è il tanque Il tanque il tanque il tanque Dai Spara 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 Oddio ma quanti sono Sti stronzi No no Chi è Via via Dove sto andando Dove dobbiamo andare Vai 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 Spara il barile Spara il barile Dove devo andare Lì lì Devo andare lì No non c'è nulla qui Ma dove siete voi ragazzi Io sono morto Ma come sei morto No mi hai abbandonato No Oddio oddio Ti sono tornato in vita Devo salire sopra Sì c'è per salire Bravo di lì Vieni su Vieni su Vieni su Aspetta che qui sento Un rumorino strano Oddio Via 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 Mamma mia C'è un po' di tensione Sì direi che la rea Ha fatto abbastanza di merda Sto gioco Però Dove bisogna andare qua Dai Oddio Occhio arrivano Arrivano Non c'è più munizioni Ragazzi Oddio Dove sono le munizioni Dove sono le munizioni Dove sono le munizioni Dove ria 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 No mi hanno ammazzato Mi hanno ammazzato Dai Ma come missione fa lì No Dai assalto 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 Dovrebbe essere una K questa Questa squadrettata Allora qui ci sono dei barili Qui possiamo Qui mi sa che possiamo scavalcare Infatti Ma qui non c'è assolutamente Oh Qui che c'è da fare Mamma che rinculo ha Quest'arma Ma poi l'omino Se te lasci il tasto Continua ad andare Siamo Siamo in una puzza d'acqua Va bene Tutto regolare Alle gambe Alle gambe Alle gambe Ma guarda quanta gente c'è Che gioca a sto gioco Ma ti rendi conto Abbiamo Oddio 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 quanti sono Tutto paga Tutto paga Tutto paga Sì ma che difficoltà sono queste Ha I for A Ah No 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 Via 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 Tutti fuori Tutti fuori Tutti fuori Questo mi ammazza Questo mi ammazza Questo mi ammazza Questo mi ammazza Oddio Mamma che casino Che casino Cos'è sta roba Cos'è sta roba Tutta grigia Dove siamo arrivati Che dobbiamo fare qua Meno male lo sanno loro che sono esperti Va bene attiviamo sto coso dai 10 secondi e parte Ok va bene Dai questa si evita Che cavolo bisogna fare qua Che bisogna fare qua Ah si sta abbassando sto coso ok Cosa c'è qui Che domanda Perché dietro Vieni 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 mangia cinghiali le vediamoci di qui Ma guarda avanti siamo Ma guarda avanti siamo Un botto di gente a sto show Ma che vorrei Guarda è trito Vorrei sapere se si può prendere Che vuol fa Che vuol fa questo 10 secondi Uuuu Sparare 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 Ma cos'è sta roba Ah sempre su Sempre su Ma non sale sto mino Non sale Ma va Si butta Ma vaffan No A me non attraversa la forza Ma è tutto buggato È tutto buggato Sto gioco Anche a meno Madonna Madonna Allora Giù Ok Devi abbassarti Come ci si fa Abbassati con le gambe E vai a dritto Con le freccette Ah ok Dove sono andati quegli altri Ma che lo so Qui dentro che c'è Io mi vieno andare più avanti Possibile Ah Non ritratto Nice Madonna Nemmeno un colpo Ma io non c'ho Perché non c'ho più le bombe Io Che cavolo di posto è Ah 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 Il fuoco No Dove sono Chi Dove Quando Ah Uno è fuoco Tanki 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 Vai Dovrebbero essere finiti No No ma io non posso No 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 Vi copro le spalle Ragazzi Scappate Scappate Mi sacrifico io Ah Ah E quanti sono Sono morto ragazzi Non ce l'ho fatto Sione completata Ah Wow Dai facciamo l'ultimo livello Con questa meraviglia di gioco Quando uno non sa proprio che cosa fare nella vita C'ha una domenica libera E viene lasciato dalla ragazza Allora questo È un ottimo passatempo Devo dire Allora facciamo supporto Dai stavolta Cosa Cosa succede? Missione completata Ma se siamo appena entrati Benissimo ragazzi La nostra missione è stata completata automaticamente Quindi possiamo concludere qui Possiamo concludere qui questo video Incredibile Eh la E Come A As Grazie a tutti